Alla Regione è istituito un fondo rischi anti-deficit da 200 milioni di euro. Novità sulla tabella H. Crocetta, le inchieste, solo punta di un iceberg. Dario Piparo. Stiamo sbroiando una problematica che nessuno aveva tentato di risolvere prima. Con queste parole Rosario Crocetta introduce l'istituzione del fondo rischi anti-deficit alla Regione. La questione riguarda i residui attivi emersi dal rendiconto del 2012. I residui attivi sono quelle entrate accertate ma non ancora riscosse. Circa 15 miliardi di euro, non riscossi da almeno un decennio, per motivi essenzialmente burocratici. I residui attivi, per definizione, possono variare per il grado di esigibilità, passando da quelli certi a quelli di difficile, se non impossibile, possibilità di utilizzo. Crocetta risponde proprio a questo quesito perché 3,6 miliardi su 15 sono proprio quelli ritenuti a forte rischio. Sarebbe assurdo che tutti quei 3,5 miliardi di euro fossero non tutti esigibili. Questo sarebbe completamente assurdo. Ma se ci pensate bene, già quest'anno noi mettiamo circa il 7,5% di quel fondo, di quella somma. Sono 200 milioni, l'anno prossimo sono altri 300 milioni e quindi arriveremo a una cifra intorno al 20%. L'anno successivo ancora sono altri 300 milioni, arriveremo intorno al 25%, 27% in tre anni. Mi pare un grande sforzo a parte di una regione dove queste cose non saranno state mai trattate. Rispetto a chi non si era mai posto il problema, noi finalmente ci poniamo il problema. E poniamo non soltanto di come fare il rapporto di entrate e uscite e i rapporti di spesa, ma di come salvaguardare la Sicilia rispetto al possibile debito non emerso del passato. Onestamente noi ci pensavamo già da mesi, però ovviamente come per vedere la legge lo vogliamo fare prima della parifica, prima che si trattasse. Ovviamente ci siamo posti il problema di quali sono le questioni che la Corte dei Conti ha sollevato negli anni passati e sulla base di quelle valutazioni abbiamo detto che quel problema del residuo poteva essere un problema persistente che è venuta l'ora di cominciare ad affrontare definitivamente. Lo stiamo facendo in molta forza perché sottraiamo spesa alla corrente senza fare tagli di natura sociale e li mettiamo come fonti di riserva per evitare i rischi da mancata entrata. Ed ecco che quindi nasce il fondo rischi con 200 milioni che verranno predisposti proprio a copertura di eventuali mancate riscossioni riguardanti gli ormai famigerati residui attivi. Un fondo che verrà implementato di altri 100 milioni di euro nel prossimo esercizio di bilancio, il tutto al fine di mettere al sicuro da ogni variabile i conti della Regione. Intanto la prossima riunione della Giunta sarà determinante per quanto riguarda la tabella H con un disegno di legge che verrà predisposto in conseguenza dell'impugnativa del Commissario di Stato. E per quanto riguarda le inchieste che hanno coinvolto uomini politici di spicco, tra i quali anche l'ex assessore agrigentino Luigi Gentile, Crocetta parla di punta dell'iceberg con coinvolgimenti che sarebbero più ampi e trasversali. Lo scandalo scoppiato, conclude il Presidente della Regione, è solo una piccolissima parte del sistema. persistente che è venuta allora.